Si parla sull'attico, lui che può dall'alto della sua esperienza. Questo signore, a soli 17 anni, è stato chiamato da Lucio Battisti per registrare l'album, la batteria, il contrabasso, eccetera. Da lì, va bene, aveva già addirittura per l'anno prima lavorato con Finardi. Era una giovane promessa e lui ha mantenuto la promessa. Lavorato con artisti di calibro mostruoso, come Battisti, alla batteria, va per per loro. Sono un salto, sono vestito, sono uscito, sono solo per la strada. Ho camminato a lungo senza verità E che ho sentito cantare, va E che ho sentito cantare, va E che ho sentito cantare, va bene, che ho sentito cantare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.